40 anni di attività per FIAIP Vicenza, il collegio vicentino della federazione italiana agenti immobiliari professionali che ha festeggiato il prestigioso traguardo con un evento alla Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore. Dopo una visita guidata alla villa ha preso il via un momento di approfondimento sul percorso finora intrapreso, sul ruolo dell'agente immobiliare sul futuro di FIAIP Vicenza, per concludere con un brindisi e un raffinato pranzo. Per noi è un momento fondamentale di grandi festeggiamenti ovviamente, ma ci responsabilizza al contempo perché ci sentiamo determinati e motivati a dare il giusto valore al rapporto che abbiamo con le istituzioni e con il nostro bene primario che è il consumatore. Dobbiamo dire che questa attività professionale era indispensabile duemila anni fa con la figura del sensale e poi del mediatore, lo è adesso e a questo punto possiamo dire che lo sarà sicuramente anche per il futuro. Tra i presenti numerosi rappresentanti di amministrazioni comunali, enti e associazioni di categoria, come ad esempio il presidente nazionale FIAIP Gian Battista Baccarini, il segretario generale vicario della Camera di Commercio Michele Marchetto, il rappresentante di Confindustria e Ance Claudio Pozza e per la provincia di Vicenza Carlo Dalla Pozza. Siamo riusciti a dare noi un metodo di approccio tra il consumatore e il, diciamo così, chi produce il bene o il venditore, cioè la persona che deve immettere sul mercato l'immobile. Vicenza ha partecipato da subito anche ai lavori nazionali. I risultati che abbiamo avuto oggi e che vediamo tuttora sono di una leadership associativa veramente importante. FIAIP Vicenza conta circa 200 associati e 400 operatori distribuiti in tutta la provincia vicentina. Per conoscere l'attività la sede si trova in via Zamenhof a Vicenza, mentre il sito è www.vicenza.fiaip.it. FIAIP Vicenza, professionisti di professione.